L'attore Silvio Orlando vestirà i panni di Shylock, l'avido e vendicativo usuraio ebreo protagonista del Mercante di Venezia di William Shakespeare, in scena sabato 30 novembre alle 21 al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba, nella versione della Popular Shakespeare Company, diretta da Valerio Binask. I biglietti, costo dell'intero dai 20 ai 26 euro, per lo spettacolo sono esauriti. Agli interessati si consiglia di recarsi in teatro la sera dello spettacolo alle 20 per aggiudicarsi eventuali biglietti restituiti al botteghino. Per maggiori informazioni telefono 0173 35 189. Si rinnova l'appuntamento con la tradizionale fiera dei Cubiotto di Santo Stefano Belbo. La manifestazione, che per l'ottavo anno consecutivo ospita al proprio interno la fiera regionale del Tartufo, avrà luogo durante tutta la giornata di domenica 1 dicembre. Per tutto il giorno la storica fiera porterà nelle vie e nelle piazze del comune, bancarelle, un mercatino tipico, la mostra delle macchine agricole, stendeno, gastronomici, caldarroste e vin brulè. La distribuzione inizierà dalle 12 fino ad esaurimento. Inoltre tra i banchi e per le vie ci si potrà lietare con la simpatica figura del bacialè, il personaggio della tradizione langarola che era solito fare incetta di cappotti, grazie alle sue capacità di mediatore amoroso tra i giovani del territorio. La fiera del Tartufo inizierà alle 10 con l'inaugurazione della mostra del Tartufo Bianco nella piazza centrale del comune, sotto la tettoia. La manifestazione è organizzata dal comune di Santo Stefano Belbo in collaborazione con la SD Turistica Proloco Santo Stefanese. Govone, nelle colline del Cunese, famoso per la sua reggia Sabauda, ospiterà dal 30 novembre un ricchissimo calendario di eventi intitolato il Magico Paese di Natale. Non solo la splendida atmosfera natalizia vera alternativa ai classici mercatini di Natale, ma una serie di appuntamenti imperdibili dall'arte all'enogastronomia animeranno quei luoghi fino al 7 gennaio. Un classico sempre presente, ma ogni anno più curato nelle proposte. E' la reggia Sabauda allestita a casa di Babbo Natale, dove gli Elfi condurranno il pubblico a incontrare il padrone di casa, attraverso un percorso che coinvolgerà tutti i sensi, in cui ogni angolo incantesimi oggetti e personaggi prenderanno vita, portando lo spettatore in atmosfere da sogno, tra musica, luci, danze e canti fino all'incontro con Antea, la regina degli Elfi. A far da cornice alla manifestazione, il tradizionale mercatino di Natale nel viale del Parco del Castello Reale di Govone. Ripartirà domenica 1 dicembre la stagione teatrale Confini sconfinati, curata a Caraglio e Busca, da Santi Briganti Teatro. La rassegna proporrà prosa, teatro per ragazzi, spettacoli musicali, commedia dell'arte, reading, tradizione e rinnovamento per tutte le età e comincerà nel segno della comicità intelligente dei tre Lilu. Dalle 16, presso il Teatro Civico di Caraglio, il quartetto si cimenterà in Avanti Savoia, divertente spettacolo tra musica, cabaret e intrattenimento puro. Venerdì 6 dicembre alle 21, invece, a salire sul palco sarà una delle voci più intense del panorama musicale italiano. Presso il Teatro di Busca, infatti, Ginevra di Marco presenterà Canti e Richiami d'Amore, un excurso tra la canzone d'autore e quella popolare. Gli spettacoli della rassegna prevedono un biglietto intero a 12 euro, mentre la domenica pomeriggio è contemplato un posto unico a 5 euro. Come per tutte le antiche tradizioni sopravvissute fino ai giorni nostri, c'è ora, intorno alla Fiera dei Puccio e di San Nicolao di Farigliano, un gran momento di scoperta interesse. La fiera vede impegnata con un centinaio di volontari l'Associazione Turistica Proloco di Farigliano. I suoi volontari, prevalentemente uomini, dalla sera del sabato iniziano a predisporre le verdure e con la rotazione dei turni di quattro cuochi cucinano la tipica minestra di tripececi. Per tenersi svegli durante la veglia notturna di cottura e resistere al freddo gustano e offrono saporita bagna cauda e ottimo vino dogliani di OCG. Domenica 1 dicembre la giornata sottoparrà appuntamenti sin dal mattino, alle 9 infatti è previsto sotto canestro con incontri di basket nel palazzetto dello Sport. Alle 10 inizierà il raduno di trattori d'epoca, mentre mezz'ora dopo prenderà il via la mostra, rilievo e decorazione su legno. Alle 11 si comincerà a distribuire la minestra degli uomini. Chi volesse cibarsi anche di altro dalle 11.30 avrà modo di dedicarsi alla cucina di strada con distribuzione di pesci fritti. Gallina in brodo è suma dai e dolce. Domenica si svolgerà l'88esima edizione del mercato dell'antiquariato e del collezionismo di Kerasco. Circa 500 espositori il primo dicembre renderanno la città delle Paci il centro di una delle manifestazioni fieristiche più importanti del nord Italia per l'antiquariato e per il collezionismo, con più di 5 chilometri di esposizione, in tema anche natalizio, con bancarelle piene di mobili, oggetti, materiali vari, vetri, ceramiche, stoffe, abiti, borse, cappelli, libri, stampe, manifesti, cartoline, quadri, lampadari, stoviglie. Sono tanti i motivi per appuntare in agenda l'appuntamento in programma sabato 30 novembre al Cinema Vecchio di Corneliano d'Alba, in corso di Donne 3. Molti motivi riassunti in un nome solo, Marta sui tubi. Non si può mancare perché si tratta dell'unica data piemontese del tour della band e poi perché la formazione di Giovanni Gulino è unanimemente considerata tra le migliori nelle performance live. Conosciuto dal grande pubblico grazie a Sanremo, il gruppo ha già alle spalle una ragguardevole discografia che ne ha fatto un riferimento del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Un ulteriore motivo di interesse è costituito dal fatto che prima dei Marta sui tubi si esibirà Nicola Stroncea e che dopo il concerto si potrà ballare con i Dot On. Il biglietto costa 10 euro per i tesserati arci, la tessera si può anche fare sul posto la sera del concerto. Si inizierà alle 22.